Eccoci qui, bentornati, siamo ancora nella Cucina Nuova Arredo con la nostra Annunzia Bellomo. Stiamo ultimando questa crostata con crema pasticcera e meringhe italiane. Le facciamo nel metodo italiano, adesso vi spieghiamo subito come si preparano. Nel frattempo abbiamo avvantaggiato il lavoro montando i nostri albumi. Riprendiamo, ecco qua, e andiamo. Proseguiamo con questi albumi. Ne hai messi quanti più o meno? Sono 120 grammi, allora considera che un albume pesa circa 40 grammi, orientativamente. Quindi sono 3 più o meno, 3-4 albumi. Dipende sempre dalla grandezza, facciamo sempre tutto a peso, mi raccomando. Ricordiamoci un'altra cosa molto importante che abbiamo detto prima, la pasta frolla oggi la stiamo realizzando non nel metodo classico, ma con l'aggiunta dei biscotti sbriciolati. Biscotti al cioccolato, ecco perché ha questo colore scuro. Allora, quindi ricordiamo mentre tu la stendi la pasta, abbiamo fatto un semplice impasto della frolla, quindi burro, uova, zucchero, tutto normale. Una percentuale di farina l'abbiamo sostituita con il biscotto sbriciolato, in questo caso 100 grammi soltanto. Benissimo, che sono più o meno 7-8 biscotti, 7-8 biscotti, o al cioccolato, o alle nocciole, a seconda dei vostri gusti. Poi tutta questa pasta frolla l'abbiamo messa in frigo, come sempre, coperta con pellicola, la lasciamo 40 minuti minimo fino ad un giorno, senza problemi. Molto bene, poi messa fuori, lasciata però a temperatura ambiente per un po', perché altrimenti è bella ghiacciata e quindi non va bene per stendere, l'abbiamo stesa. La stendiamo e la sistemiamo in una teglia da crostata. Tu l'hai già fatto, naturalmente. L'ho già fatto, chiaramente, anzi possiamo già togliere, non mi dico perché in realtà io l'ho già cotta. Ecco qua, questo è il risultato finale nella teglia. Quindi stampo da crostata, la forelliamo un po'. A cosa serve a farla respirare? A fare questi fori. Ah, bene. Ho visto una cosa importante, un passaggio che noi molto spesso dimentichiamo. Carta da forno. Va messa questa carta da forno con i fagioli. Con i fagioli, i legumi. Ma cosa serve? In questo serve a non farla alzare. Ah, ecco. Siccome abbiamo peraltro messo un po' di lievito, che cosa facciamo in questo caso? Quindi è vero che abbiamo messo il lievito che la rende più softice, il rischio è quello che andrebbe a lievitare. In questo caso noi la schiacciamo con i legumi e quindi non si alza. Ok. Ok. Secondo me sono già montati a neve questi albumi. È barbinissima. Sì, continuiamo comunque, li lasciamo. Continuiamo? Sì, sì, li lasciamo. Allora, nel frattempo abbiamo qui la crema pasticcera. Che abbiamo fatto prima. Come l'abbiamo fatta? Ricapitoliamo. Allora, qui abbiamo messo soltanto tuorli, abbiamo utilizzato degli amidi, il latte, chiaramente. Abbiamo mescolato tutto quanto assieme e l'abbiamo portato in cottura. Adesso la lasciamo raffreddare un po'. Va fatta raffreddare? Sì, 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 sì. Ok. Va bene. Allora, parliamo di queste meringhe. Abbiamo detto che la meringa che tu oggi preparerai non è quella classica francese, ma una meringa italiana. Sì, esatto. Infatti io mi sto portando avanti anche con la preparazione. Allora, come è fatta questa italiana? Anche se l'abbiamo detto prima, però ribadiamo il concetto di questa meringa italiana che ha una consistenza diversa. La resterà morbida, adesso ti renderai conto. Questo significa che noi la facciamo e la utilizziamo direttamente e la mangiamo. Quindi non abbiamo il passaggio in forno delle 3, 4, 5 ore solite. Perché questo? Perché in realtà stiamo facendo uno sciroppo di zucchero, quindi stiamo sciogliendo una parte di zucchero con l'acqua. Adesso facciamo sciogliere completamente lo zucchero e lo aggiungiamo a caldo negli albumi. Perché deve essere caldo? L'albume è un uovo crudo. In questo caso noi possiamo mangiare direttamente l'albume senza cuocerlo, in teoria. In realtà però l'abbiamo cotto. Come se quel calore andasse a cuocere e a frizzare. Certo, l'albume lo va a pastorizzare. Ma quante ne sai? E quante ce ne insegni? Quante ne ho viste e quante ne vedo ogni giorno. Senti, deve sciogliere tutto questo zucchero? Si scioglie tutto. Se noi avessimo fatto invece una meringa, per esempio quella francese, avremmo montato direttamente gli albumi lì dentro con lo zucchero e tutto quanto, avremmo messo nel sac a poche e le avremmo formate in nostri ciuffettini. Da infornare a 60 gradi per 4-5 ore, dipende poi chiaramente molto dal forno. Io voglio capire una cosa, questa crostata non va infornata? Non va infornata. E praticamente è tutto pronto, perché la crostata l'abbiamo infornata, ma l'abbiamo infornata prima. La crema l'abbiamo cotta qua. Ricordiamo quanto l'abbiamo infornata. A 160 gradi circa per 20 minuti. 160 gradi per 20 minuti. Sì, una cottura lenta in questo caso, sì. Perché abbiamo il biscotto già cotto dentro. Ma la mettiamo poi in frigo un po' con la crema per farla rapprendere? No, 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 perché tieni conto che si lavora a freddo, questa ormai è fredda. Questa è fredda, il nostro zucchero nel frattempo è pronto. Quindi lo aggiungiamo. Aggiungiamo lì, io vado in freezer e prendo la freddura, come ogni giorno. Anche durante Pasqua, guarda, me le sono sognate, a Pasqua e Pasquetto ho sognato le freddure. E poi le ritrovo qui perché quelle non mancano mai nella nostra cucina. Allora la leggo, leggo quella di oggi. Due panini si incontrano. Ciao, vieni. Ciao. Ciao, vieni. Ti presento un'amichetta. Ecco. E io ti presento mia cugina Rosetta. Di Roma. Si può sentire questa, vabbè. Allora, la mettiamo lì. Dai, era carina. Carina, dai. Era carina, era carina, carina. Nel frattempo ci sta dando soddisfazioni questo impasto. Guarda la Merinda com'è, come monta. Questo albume, guardate che meraviglia. Bellissima. È bellissima. Non so se riuscite a vedere da casa, vediamo se tra poco facciamo fare un primo piano, se non tra il regista Piero Lorusso riesce a fare un primo piano. Quindi, ecco qua, guardate, è bello spumoso. Quindi c'è l'albume montato a neve e poi c'è l'aggiunta di questa acqua con zucchero bella bollente che ha generato questa spuma morbidissima. Quindi la monta la fa diventare completamente lucida e bianchissima. Bella, bella. Adesso la lasciamo montare e noi chiaramente la dobbiamo far riposare o direttamente sulla crema? In realtà in questo momento si sta raffreddando. Ah, si sta riposando. Si sta raffreddando. Automaticamente. Automaticamente. Ok. Allora. Nel frattempo noi però abbiamo la nostra croissata già pronta. Dai, procediamo, iniziamo a mettere la crema pasticcera all'interno. È chiaro che dobbiamo munirci di sac a poche. Per la meringa sì. La crema la possiamo mettere. Ah, la crema no? Direttamente con la spatola. Direttamente con la spatola. Vediamo un po', anche per la quantità, voglio capire quanta ne metti. Allora, le quantità che vi ho dato sono esatte. Quindi questo mezzo litro di latte ci consente di coprire tutta questa base di frolla. Non è liquida, è un po' densa. Allora, è un po' densa, ovviamente, come tutte le creme. Tieni conto che questa è calda, quindi dovrebbe raffreddare ancora un po'. Ok, deve essere bella fredda? Deve essere fredda, sì. Benissimo, quindi la stendiamo con la nostra spatola. Potremmo fare una crema al cioccolato anziché la pasticcera? Eh sì. Scusami, eh. Potremmo fare anche una crema con base di pistacchi. No, perché questi giorni di feste stiamo esagerando, eh. Pasqua è come Natale, si sa, si mangia. Durante le feste bisogna mangiare. È un giorno un po' di cioccolato delle uova, è un giorno un pezzo di colomba. Esatto, ma poi si sta in famiglia, insomma, sono giornate belle. Ma poi per le gite fuori porta queste idee sono favolose. Per esempio questa crustata... Queste si possono fare i crustatini piccolini. Ah, già, è vero. Che sono anche carine da portare. Però questa crustata la possiamo trasportare perché poi alla fine... Allora, questa si viene. ...essendo una consistenza uniforme, compatta... Allora, considera che la meringa non si smonta, per cui non ha i problemi nella conservazione e tantomeno nel trasporto. Attenzione, chiaramente è abbastanza delicata e quindi occhio a tenere una parte sopra che in un certo senso la protegge. Ti sto aiutando, eh. Sì, grazie, stai mantenendo ed è già tantissimo. Non si muove. Benissimo, quindi il bordo è praticamente lasciato... Tanto adesso guarda, lo lasciamo anche... Anche così, perché tanto lo decoriamo. Ok, abbiamo due minuti di tempo così... Vediamo come metti e crei queste meringhe italiane, che poi ne farei tante. Sono tanti ciuffetti. Diciamo che sono tante meringhe, ma in realtà è un'unica meringa. Questa meringa la possiamo usare in cucina anche per guarnire un altro tipo di dolce? Allora, tutti i dolci, assolutamente, tutti i dolci possiamo guarnire. Possiamo anche fare un semplice brunchier, guarnirla o fare altre... Scusami, ma io non ce la faccio. Mamma mia, che buona. Hai visto? E non è molto dolce. Beh, quello chiaramente difende... Considerando che hai messo un bel po' di zucchero, però è veramente buona. Non lo senti perché c'è una buona quantità anche di albume. Ti ho interrotto prima. Quindi, dicevi altri dolci? Ma guarda, in realtà tu puoi... Sì, Michele, vieni qui, guarda, guarda, non lasciarmi sola in questo momento perché... No, 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 ti sostengo... Scusa, vuoi mettere un dito anche tu? Ah, sì, sì, così è proprio... E dai, sì, e chi se ne importa? Com'è? La meringa mangiata col dito? Che bella deliziosa, rubata. La grande deliziosa. Rubata. Scusa, ci siamo permessi qua. Abbiamo fatto questa meringa italiana, che è differente da quella francese perché soffice, appunto, è come se fosse una crema. Quindi dicevi che la possiamo usare, vabbè, sulle crostate. Ma puoi utilizzarla, è chiaro, sulle crostate puoi utilizzarla anche come... Su un cake? Esatto, in sostituzione anche la panna, ma anche un semplice caffè freddo, caffè col ghiaccio, ci metti su un po' di meringa. Ah, capito? Capito, ho capito. Ho anche una bella pallina di gelato al cioccolato con un ciuffettino di meringa, ci sta. Mary, fantastico. Allora, io prendo il piatto. Che prego. Perché subito dobbiamo assaggiare, si devo far assaggiare questa, anzi no, lo facciamo insieme. Insieme, insieme. Guarda, veramente, oggi sono ben lieta di accompagnarti nell'assaggio perché quando si tratta di dolce lo sai... Cosa dici? La lasciamo così e la mettiamo in forno così nel frattempo facciamo vedere anche l'effetto. Non abbiamo più tempo a disposizione, Enzo ci dice che non abbiamo tempo, quindi dobbiamo subito procedere. Come se, come se, come se l'avessimo messa. Come se. Prendo le forchettine, la vuoi porzionare tu? Vuoi mettere un pezzettino nella... Ah, che meraviglia! Che bella! Eccola qua. Stupenda! Completa! Brava Nunzia! Eccola qui completa, che meraviglia! Allora, porziona tu, fai un pezzettino, preparaci un pezzettino così io e Michele l'assaggiamo e capiamo com'è. Com'è venuta, se è venuta bene, è venuta male, no, secondo me... Ma hai visto che sono da solo? Eh sì, e Stefano e Annalisa? Eh non lo so, sono spariti, non riesco a capire, tanto io l'assaggio anche per loro, no? Eh sì, no, vabbè, non sanno che cosa si perdono. Sì, appunto, appunto, appunto. Allora, andiamo, vai, vai Michele, vai! Tu che sei il giudice onorario, vediamo anche questa pasta frolla, come è venuta, vediamo, mamma mia che buona! È vero? Ma io direi che si può sintetizzare... Dai, diciamolo insieme, uno, due, tre... Di lusso! Oh, bravissima lusso! Grande croztata, croztata italiana, quante cose impariamo, sì. Veramente buona. Bene, facciamo una bravissima pausa e siamo subito da voi, a più tardi. A tra poco, dai, finiamola. Ma chi se ne importa l'analisi? Stai facendo un gioco?